Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vedrete cosa sto lavorando da ormai qualche settimana. Sono i miei classici presepi in scatola, sono dei presepi che mi hanno commissionato appunto da qualche tempo. Sono presepi realizzati in delle semplicissime scatole o bauli, tutto realizzato artigianalmente da me, sono composti da sughero, legno e polistirene. Ogni presepe è originale e univo, quindi non avrete mai un presepe identico a un altro. Sono tutti presepi numerati, quindi anche questo è un valore aggiuntivo e hanno tutte le illuminazioni. Vi posso far vedere appunto come sono realizzati. Questo qui è tutto un meccanismo appunto fatto da me. Nascono come dei baulotti, dove poi uno una volta che è finito il Natale, il periodo Natalizio lo può rinforre appunto dove vuole ed è molto pratico. Allora il gancetto si apre ecco qua e la loro lucina. Adesso vi faccio vedere appunto tutti i presepi illuminati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.